Scannora doppia, ma solo un giorno a settimana. Tutti lunedì dalle 9.30 alle 13 sarà disponibile anche un altro medico di base per i Borgo Lacostre. Si tratta della dottoressa Maria Rita Tundo che riceverà i pazienti nello studio di Via degli Alpini presso il poliambulatorio. In un territorio montano come il nostro, dove la sanità è in forte difficoltà, a distante chilometri dal più vicino ospedale, accogliamo con grande entusiasmo l'arrivo di un secondo medico di base. Alla dottoressa auguriamo buon lavoro, la quale andrà a fiancare Chiara Mignigni, che ringraziamo per il grande impegno profuso in questi anni, che continuerà ad attuare, riuscendo a far fronte alle carenze che affliggevano il nostro territorio, afferma il sindaco Giovanni Mastro Giovanni. La comunità potenzia la medicina sul territorio, in attesa dell'inaugurazione della pista dell'elisoccorso, al fine di rafforzare la filiera dell'emergenza. Urgenza.